Sì, abbiamo fatto un primo tempo pressoché perfetto, ci aveva portato in vantaggio sul 3-1 e quindi avevamo noi la partita in mano e c'è molto rammarico per come si era messo il risultato e soprattutto per la prestazione che stavamo facendo, finire sul 3-3 porta molto rammarico. Però c'è la soddisfazione di aver giocato veramente una bella partita? No, no, quella lì sicuramente, soprattutto anche per l'occasione che ci ha dato il mister perché comunque sia ha dato riposo a molti altri e noi penso ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo fatto una gran bella partita e quindi su questo dobbiamo essere molto contenti. Ecco, Luca Balsania è uno di quei giocatori ai quali è stato chiamato in causa dal mister e ha risposto presente. No, sì, sì, ripeto, sono contento anche della mia prestazione personale perché comunque sia, magari non è sempre facile comunque farsi trovare pronti, soprattutto in uno stadio come quello di Roma, però ripeto... Si parlava di 40.000 persone presenti? Eh no, appunto, infatti a volte può essere un'arma a doppio taglio, però dobbiamo essere solo che contenti perché ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo fatto penso tutti una bella partita e dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare sempre pronti quando ci chiamo in causa. Adesso testa a Copenaghen perché c'è un'altra importante partita da giocare. Sì, penso che è un po' una partita svolta nella nostra stagione perché comunque sia il playoff di Europa per noi era il nostro punto, capito, dove noi pensavamo di arrivare con la testa sempre lì e quindi siamo già da domani, ripartiamo con la testa lì perché comunque sia una partita molto importante e dobbiamo andare a vincerla. Grazie